Benvenuti e bentornati amici e fenauti. Oggi di nuovo siamo tornati nello studio, quindi niente più magliette, abbiamo abbandonato le ciabatte per parlare di qualcosa di davvero speciale, e cioè l'arte, il corpo e la fotografia. Siete pronti? Però prima dovete iscrivervi al canale, scampanellare qui alla campanella qui sotto e mettere like al video, e poi magari commentare con dopo le ferie ci vuole la pensione. Ecco, inizio subito oggi col dirvi che la street photography non è soltanto una questione di tecnica o di attrezzatura, la chiamiamo arte, è vero, lo è, perché è un'espressione di chi siamo e di come noi vediamo il mondo. E' una delle cose più importanti che ho imparato nella vita, negli anni, scrivendo, poi suonando e fotografando, e l'importanza di ascoltare il nostro corpo. Ogni volta, infatti, che io esco con la mia macchina fotografica e cerco il momento perfetto da catturare, mi fermo un attimo e rifletto. Non è soltanto il click di un bottone, quindi non è soltanto l'immagine che appare sullo schermo, è qualcosa che è più profonda. Ogni foto, infatti, racconta una storia, ogni scatto cattura un'emozione e io non mi stancherò mai di ripetervelo. E mentre cerco di congelare sempre quei momenti nel tempo, mi rendo conto di una verità fondamentale, cioè l'arte, in tutte quante le sue forme, è un'espressione pura di chi siamo noi. Ma noi, esattamente, chi siamo? Ecco, non siamo soltanto carne ed ossa, siamo un mix incredibile, siamo un cocktail esplosivo fatto di materia organica, di pensieri, di emozioni e anche di impulsi elettrici che ci attraversano continuamente. Pensa a tutte quante le volte in cui hai visto qualcosa che ti ha colpito, che ha fatto battere il tuo cuore molto forte. Quell'istante in cui, per esempio, hai sentito il bisogno di fermare tutto quanto e catturare quel momento con la macchina fotografica. Quella sensazione di brividi sulla pelle, il battito cardiaco accelerato, quella sensazione di stupore. Tutto questo ha origine proprio nel nostro corpo e in quel momento stai mettendo te stesso nella fotografia. Stai mettendo in uno scatto la tua percezione, la tua emozione, il tuo cuore. Quando scattiamo una fotografia non stiamo soltanto catturando un'immagine, stiamo catturando un'emozione, un sentimento, un momento che ha risvegliato qualcosa dentro di noi, che non pensavamo di provare. Un'emozione che da sola non l'avremmo mai provato. E tutto questo parte proprio dal nostro corpo, dalla nostra mente, dalle nostre emozioni. La fotografia, così come la musica, la poesia, la pittura, la danza e tutte quante le forme d'arte, è un'estensione di noi stessi. È il modo in cui vediamo il mondo, come lo interpretiamo e come vogliamo che gli altri lo vedano attraverso i nostri occhi. E ogni volta che noi premiamo il bottone di scatto, stiamo condividendo un pezzo di noi con tutto quanto il mondo. Quindi, la prossima volta che prenderai la tua macchina fotografica e ti preparerai a scattare, ricorda che non stai soltanto catturando un'immagine, stai catturando te stesso, la tua visione e il tuo cuore. E sì, cari street photographers, è proprio così. Ecco perché io mi incazzo con chi vi ossessiona sempre, chiedendovi di trovare il vostro stile per essere unici e riconoscibili. Tutti quanti voi siete già unici, nessuno può provare esattamente quello che provate voi. Tutto quello che dovete fare è essere coerenti con quello che sentite dentro, con chi siete davvero. Dovete essere autentici, non professionisti. Noi, camminando per le strade, circondati sempre da stimoli visivi, ci fermiamo spesso a catturare dei momenti che ci colpiscono. E non parlo soltanto di scattare una fotografia con la macchina fotografica oppure con il nostro smartphone che abbiamo sempre in tasca. Ogni immagine che vediamo, ogni scena che noi osserviamo ha un impatto su di noi. E non è soltanto un impatto visivo. È un'esperienza in realtà che coinvolge tutto quanto il nostro essere. Perché la mente lo elabora, le emozioni fluiscono e il nostro corpo reagisce. Ma tutto non lo sei mai chiesto? Com'è che reagisce il tuo corpo quando scatti una fotografia oppure quando vedi un'immagine? Come ti senti quando vedi una fotografia che hai scattato e ti rendi conto che hai catturato perfettamente quel momento che volevi? Oppure quando vedi un'immagine che hanno scattato altri, che ti colpisce profondamente e che ti fa riflettere? Ecco, la prossima volta che vedi un'immagine che ti colpisce, che ti spinge a fermarti più di un istante, fermati un attimo in più. Ascolta il tuo corpo, senti le tue emozioni, rifletti sulla tua reazione. Perché ogni immagine, ogni foto è un viaggio che inizia nel nostro corpo e poi prosegue nella nostra mente. Conosci quella sensazione quando una canzone ti colpisce in profondità? Quando ogni nota, ogni accordo ti fa sentire vivo e ti fa vibrare proprio dentro? Ecco, è come se la musica avesse il potere di toccare l'anima, di farci sentire qualcosa di profondo, di connetterci con noi stessi e con tutto quanto il mondo intorno a noi. Io sono certo che sai di cosa sto parlando, perché non è soltanto una sensazione mentale o emotiva, è fisica, perché batti il piede, inizia a ondeggiare, poi senti le vibrazioni nel tuo corpo, senti ogni battito, tutta la melodia e lo stesso vale per le immagini. Quindi quando guardi un dipinto, una fotografia o qualsiasi forma d'arte visiva, non stai soltanto usando gli occhi, stai usando tutto il tuo essere, tutti quanti i tuoi sensi. Ogni colore, ogni forma, ogni sfumatura di luce, tutto quanto risuona dentro di noi. Ci tocca in modi che a volte non sappiamo nemmeno esprimere a parole. E non è soltanto una sensazione visiva, è anche questa volta una reazione fisica e emotiva e molto, molto profonda. E questa sensazione è incredibile, ha un nome e si chiama proprio eccezione. E la nostra capacità, cioè, di percepire e sentire il nostro corpo, di connetterci con il mondo intorno a noi attraverso tutti quanti i nostri sensi. Perciò la prossima volta che ascolterai una canzone o guarderai un'opera d'arte, ricordati che non stai soltanto ascoltando o guardando, stai sentendo, stai vivendo, stai connettendoti con te stesso e con tutto quanto il mondo attorno. E' questa la magia dell'arte, è questa la magia della propriocezione. Forse non lo conoscono tutti quanti, ma un fisico rivoluzionario di nome David Boom ha cambiato il modo in cui noi vediamo e percepiamo il mondo intorno a noi. Boom, infatti, non si è limitato a studiare soltanto il mondo esterno, ha esplorato profondamente la connessione tra il mondo interno e l'universo. E una delle sue idee più rivoluzionari, più affascinanti, è che il nostro corpo ha la capacità unica di percepire se stesso. Perciò ogni pensiero che attraversa la nostra mente, ogni impressione che riceviamo dal mondo esterno, non passa inosservata. Lascia un segno, una traccia, lascia un'impronta dentro di noi. E questa impronta diventa parte della nostra essenza, del nostro essere, ci fa realmente diventare unici. E quando parliamo di fotografia, non stiamo parlando soltanto di catturare un momento all'esterno, stiamo parlando di catturare una parte di noi stessi, quella molto intima. Ogni foto, infatti, è un riflesso di come vediamo il mondo, di come lo percepiamo, di come lo sentiamo. Ogni scatto è un'estensione di noi stessi, è la nostra interpretazione del mondo, è la nostra interpretazione che è filtrata attraverso la nostra mente, il nostro cuore e poi il nostro corpo. E ogni volta che guardiamo una di queste fotografie, non stiamo soltanto guardando un'immagine, stiamo guardando proprio una parte di chi siamo noi. Quando fotografiamo non stiamo soltanto catturando un momento, stiamo catturando noi stessi la nostra visione, il nostro cuore, ed è questa la vera magia, l'unica magia della fotografia. La fotografia, perciò, non è soltanto una questione di tecnica o di attrezzatura, è un'arte, perché è un'espressione di chi siamo e di come noi vediamo quello che abbiamo attorno. Prova a fare qualcosa di diverso, prova a spostare leggermente la tua prospettiva e vedi come cambierà tutto. Prova a fare così. Mentre scatti, sposta leggermente l'inquadratura. Non pensare troppo. Lascia che sia il tuo corpo a guidarti dove andare. Senti che cosa ti dice, come reagisce ogni piccolo cambiamento. E una volta che vai catturato il tuo momento perfetto, il divertimento continua anche in post-produzione. Il mondo ce l'hai davvero nelle tue mani quando scatti una fotografia. Gioca con i colori, sperimenta con i ritagli, prova effetti diversi e mentre lo fai, ascolta il tuo corpo, senti come reagisce ogni modifica, a ogni sfumatura. La fotografia è un viaggio, un'esplorazione continua di noi stessi e del mondo intorno a noi e ogni passo di questo viaggio, dalla cattura all'editing, è un'opportunità per connettersi con il nostro interno, per sentire e percepire in modi nuovi e a volte anche sorprendenti. Non scattare fotografie, cattura emozioni, sentimenti, una parte di te e ogni scelta, ogni modifica è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo proprio su di te e sul tuo modo di vedere il mondo. Imparerai anche attraverso la fotografia, attraverso la street photography, a conoscerti meglio in un mondo fatto di immagini. Che cos'è che rende davvero una foto speciale? Cos'è che fa risaltare una tua fotografia rispetto ad altre mille fotografie? La verità è questa, non è la macchina fotografica, non è la tecnica e non è nemmeno il soggetto potente come lo chiama qualcuno, è il fotografo che sta dietro la macchina fotografica. Ogni foto che noi scattiamo è un riflesso di noi stessi, è un pezzo del nostro cuore, della nostra anima, del nostro passato, della nostra essenza. E quando mettiamo tutto noi stessi in un'immagine, quando coinvolgiamo ogni parte del nostro essere, quella fotografia ha il potere di toccare gli altri in modi che nemmeno sappiamo immaginare. Però com'è che facciamo esattamente a mettere tutto noi stessi in una fotografia? Ecco, tutto quanto inizia da qua, con la visione che abbiamo, con la storia che vogliamo raccontare, però non si ferma lì, perché deve coinvolgere anche tutto il corpo, deve sentire ogni sensazione, ogni vibrazione, ogni emozione che l'immagine evoca. E soprattutto deve coinvolgere l'anima. C'è quella parte profonda di noi che esattamente sa che cosa vuole esprimere, che sa esattamente che cosa vuole dire a tutti, a tutto il mondo. Quindi non usate la macchina fotografica soltanto per scattare fotografie. Raccontate la vostra storia e se siete felici, ditelo con la fotocamera. Se invece avete il magone qua, sfogatevi, ma fatelo con la macchina fotografica. E per farlo in modo potente dovete coinvolgere proprio tutto il vostro essere, cioè la mente, il corpo e l'anima. Quando vi trovate in quel momento perfetto, quando tutto quanto sembra sia allineato e siete pronti a scattare, ecco, prendetevi ancora un momento, un attimo. Respirate profondamente, sentite ogni sensazione, ogni emozione. Ascoltate il vostro corpo e lasciate che sia quello a guidarvi. E ovviamente non dimenticatevi di condividere con me e con tutta quanta la community di F4 le vostre esperienze attraverso le vostre fotografie. Perché la street photography è un viaggio e ogni scatto è un passo in avanti in questa avventura. Ciao e alla prossima settimana. Ciao e alla prossima settimana.